Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto divertente. Noi proveremo a forzare l'intelligenza artificiale di questi nuovi motori di ricerca. In particolare andremo nel motore di ricerca di Microsoft Bing, al quale è stato integrato un nuovo meccanismo di intelligenza artificiale preso da ChatGPT e vedremo come si risponde, se si innervorsirà. Le nostre domande saranno molto scomode. Adesso, siccome noi siamo un canale che si occupa di tecnologie open source e Linux, ci occupiamo di LibreOffice, in particolare la prima cosa che vogliamo chiedere è se Linux è migliore di Microsoft Windows. Quindi lo chiediamo subito in inglese. Is Linux better than Microsoft Windows? Scriviamo Microsoft e non vorrei che lui scambia le finestre. Vediamo che cosa ci risponde. Diamo i tempi, è sempre bello ricominciare, chiedimi qualsiasi cosa. L'abbiamo chiesto. Ricerca in corso per Linux versus Windows, ci dice. La domanda è, is Linux better than Microsoft Windows? Vediamo, ci sta rispondendo. Ciao, questo è Bing. Linux e Windows sono due sistemi operativi diversi che hanno i loro pro e contro. Linux è un sistema operativo open source, mentre Windows è commerciale. Linux offre più flessibilità e sicurezza, meno male, vedi che anche Bing di Microsoft lo accetta questo concetto. Offre più flessibilità e sicurezza, mentre Windows è più popolare e facile da usare. Quindi si rende conto che Linux è più sicuro di Windows. Molto interessante, effettivamente, questo sistema di intelligenza artificiale è intelligente. La scelta dipende dalle tue preferenze e necessità. Per cosa vuoi fare usare il sistema operativo? Bene, lui ha riconosciuto che Linux è più sicuro di Windows. Windows ha la sua, la popolarità. Non sono così sicuro che sia più facile da usare. Allora, vediamo adesso, forziamo ancora e facciamo, is LibreOffice better than Microsoft Office? Vediamo che cosa risponde. Questa è un'altra domanda, quindi ormai avrò inquinato il mio account con queste domande scomodissime, quindi mi attenzionerà con una attività di intelligence. Il secondo quesito che abbiamo chiesto al motore di intelligenza artificiale è Is LibreOffice better than Microsoft Office? LibreOffice e MicroOffice sono due suite di prodotti per l'ufficio che offrono funzionalità simili. La differenza principale è che LibreOffice è gratuito e open source, è come se fosse già pronto. L'architettura logica della risposta mi suona come quella di prima, mentre Microsoft Office è a pagamento commerciale, ma almeno è trasparente. LibreOffice funziona su Windows, Linux e Mac OS. Questa è una buona informazione, ci dice che LibreOffice può essere anche installato su Windows, questa è una cosa che tutti non sanno e quindi è abbastanza trasparente questo motore di ricerca. Mentre Microsoft Office funziona su Windows, Mac OS, iOS e Android. Molto particolarizzata questa informazione. La scelta dipende dal tuo budget e dalle tue esigenze. Che tipo di documenti vuoi creare o modificare? Interessante che lui, siccome confronta un prodotto open source e uno con una licenza a pagamento, parla di budget e ci dice chiaramente che LibreOffice, mentre LibreOffice funziona sulla maggior parte delle piattaforme, invece Windows, in particolare in Linux, cioè Microsoft Office, non si può installare. Facciamo un'altra provocazione nel video di oggi e diciamo Is, per esempio, the Apple iPad, scriviamolo con la maiuscola, better than the Microsoft Surface? Cioè, diciamo, ma non è che l'iPad è migliore del Microsoft Surface, che è il tablet di Microsoft? Facciamo invio. Is the Apple iPad better than the Microsoft Surface? Vediamo, vediamo che cosa ci rischiamo. Siamo proprio tentando di provocare una risposta perché stiamo chiedendo a un motore di un soggetto commerciale se altri prodotti sono migliori. Vediamo che cosa dice. L'iPad e il Surface sono due tablet di fascia alta che hanno i loro punti di forza e debolezza. L'iPad è più leggero. Vedete quanto è trasparente. Ha una maggior durata della batteria. È interessante che il motore di ricerca elenca le caratteristiche migliori degli altri prodotti. Migliori fotocamere e uno schermo più vivace. Accidenti. Il Surface ha uno schermo più grande e nitido. Un design più elegante e una tastiera più comoda. Accidenti. L'iPad usa il sistema operativo iOS, mentre il Surface usa Windows 10. La scelta dipende dal tuo gusto personale e dall'uso che vuoi fare del tablet. Per cosa vuoi fare il tablet? Allora, queste sono le tre domande che noi abbiamo posto a questo motore di intelligenza artificiale che è stato inserito in Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, questa azienda americana che produce Windows e Office e il Surface. Abbiamo chiesto se Linux era meglio di Microsoft Windows e ci ha detto chiaramente che, per esempio, è più sicuro. E questo ci è piaciuto. Poi abbiamo chiesto se LibreOffice era meglio di Microsoft Office e ci ha detto che LibreOffice è gratuito e può essere installato in più piattaforme e ci è piaciuto. E poi abbiamo chiesto se l'iPad è migliore del Microsoft Surface e lui ci ha ripetuto che c'ha, guarda, è interessante perché c'ha la batteria che dura meglio, la fotocamera che dura meglio, uno schermo più vivace del prodotto. Quindi, da questo punto di vista, io direi che il meccanismo di intelligenza artificiale che è stato introdotto da Microsoft all'interno del motore di ricerca, per quello che riguarda noi, è stato abbastanza trasparente. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero sia stato di vostro interesse. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.